Ho incominciato ad amare la pittura perché ho incontrato mia nonna a dipingere, così mi sono seduto vicino a lei. Da allora non ho più smesso. Poi dopo me ne andai all'Accademia di Belle Arti, studiai un anno a Napoli, tre anni a Roma col maestro Franco Gentilino e poi vinci una borsa di studio a Parigi dove, passato altri cinque anni, ho avuto uno studio splendido che era il primo studio di Chagall a Parigi. Io ho fatto per fortuna nella mia vita, ho sempre potuto fare soltanto il pittore o lo scultore o il ceramista e ho sempre vissuto del mio lavoro. Questa è una cosa che mi rende orgoglioso. Poi sono arrivato a Treiano che è un luogo dove mio padre e mia madre avevano deciso negli anni sessanta di acquistare una casa e in più da venticinque anni ho avuto il privilegio di di lavorare in questa torre che è come aver ricevuto una benedizione, l'amore più grande che si possa immaginare.